ciao ragazzi qui pleale bentornati con rodrigo el sil campiador de vivara quest'oggi finalmente ci ritroviamo in una guerra ovvero il nostro re re sancio ha deciso di rivendicare le rivendicazioni sul ducato di se non erro aragon esatto di aragon finalmente il nostro religio potrà dimostrare tutto il suo valore in questa guerra adesso vediamo un attimino se io ho perfetto assolutamente offro di unirmi alla guerra assolutamente e ragionerò tutti tutto l'esercito tutto l'esercito ovviamente verrà comandato da noi rodrigo intanto adesso andiamo ad collegare il nostro esercito con l'esercito di sancio penso qui ad miranda de bro cerchiamo di esatto unire l'esercito al primo esercito di burgos quello con le manganelle vai uniamo e andiamo ragazzi finalmente 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 iniziano gli anni di guerra era anche ora sinceramente era anche ora direi e non vedo l'ora come il nostro re deciderà di diciamo spartire questi questi titoli dato che insomma ho finalmente mio figlio ed erede lode a santa brigida chimena ha dato la luce un figlio perfetto un giorno figliolo potrà porterai avanti la mia eredità quale nome si addice ad un conte diego perfetto sembra fatta apposta diego de vivar eccolo qui diego rodriguez de vivar a quanto pare amministrazioni uno a zero anni purtroppo competenze militari a zero che è quello che sinceramente ci si aspetta dal figlio di el sid però va bene comunque intanto strategia rispinta sono seduto in una riunione strategica con re sancio e il conte sancio intento a discutere dei nostri piani per la guerra in corso purtroppo re sancio non tiene conto delle mie idee favorendo invece quelle proposte da sancio questo è tutto il contrario di quello che in realtà era il rapporto tra sancio e rodrigo perché sancio si fidava ciecamente del giudizio di di rodrigo ora andremo avanti e le useremo per dare forma alla nostra linea strategica per la guerra in corso il tempo ci dirà se le scelte di sancio se la scelta di sancio era corretta si dicevo no 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 assolutamente sancio sapeva del dell'abilità marziale di rodrigo e seguiva filo e per segno qualsiasi parola uscisse ecco dalla sua bocca ripeto ah finalmente accettiamo invito nel consiglio come maresciallo e te ne sei accorto è che siamo i migliori nel tuo regno insomma 27 di competenza marziale questo ci darà maestria più tre il mantenimento in oro dell'esercito meno 15 per cento tanta tanta roba dimensione della leva più 15 ed esperienza mensile per lo stile di vita competenze militari più 15 per cento finalmente volendo potremmo anche radunare qualche esercito in più no sembrerebbe di no perché i soldati sono tutti radunati intanto andiamo a guardare la sede di saragozza che dovrebbe cadere fra 50 giorni iniziano finalmente le prime vittorie del del regno di castiglia intanto indegni contadini mentre ero nel borgo fortificato in compagnia di alvar la sua attenzione è stata catturata da un criminale incatenato alla gogna alvar ha alzato la testa e fatto finta di ignorare la richiesta del criminale di un po d'acqua non mi dà altre opzioni quindi bene lascia che sappia qual è il suo posto diventerà arrogante arrogante che non ricordo cos'è che fa però arrogante cos'è che fa prestigio opinione del signore del vassallo meno 5 segretezza del complotto meno 10 per cento e ovviamente opinione del tratto opposto umile meno 15 umile che se non erro lo siamo noi no siamo calmi siamo fiduciosi diligenti coraggiosi e calmi va bene intanto saragozza è finalmente caduta non capisco perché abbiano interrotto l'assedio di calatayut a forse perseguire l'esercito nemico vediamo un po come andrà e questa ovviamente non ce la vogliamo perdere questa battaglia ecco qui che gli uomini di sancio ovviamente cercano di schiacciare l'esercito nemico che però continua comunque a scappare con successo quanto pare sono più veloci dei nostri però hanno forse deciso di no non è vero non è vero non non hanno deciso di combattere qui adesso più che altro un fuggi fuggi o finalmente qui ci sarà finalmente la prima battaglia tra l'esercito di castiglia e l'emirato di saragozza che palle non stiamo purtroppo comandando noi la battaglia però la battaglia di saragozza 5150 soldati castigliani contro 1430 del appunto dell'emirato hudid dove abbiamo un vantaggio di più 7 e più cavaliere ovviamente gli nostri fanti corazzati però stanno avendo uno svantaggio dovuto dai loro fanti leggeri però ragazzi abbiamo perso solo 90 soldati mentre loro 1635 quindi è stato appunto il massacro di saragozza intanto cavalieri vediamo un attimino se ci siamo anche noi qua non mi pare no 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 non mi pare c'è massimiliano il nostro il nostro cavaliere e gonzalo penso no lui non è il nostro cavaliere chi altro c'è il nostro cavaliere piarres piarres è il nostro cavaliere noi non ci siamo purtroppo forse perché siamo appunto all'interno del nostro esercito e quindi non ci tiene conto come se fossimo insomma all'interno del dell'esercito di ria sancio intanto vittoria così sia quindi adesso il tuo signor ha vinto la guerra ok e quindi cosa come succede cosa è successo adesso il ducato hudid ok questo rimane il duca hamad sulle mazin però qui la contea di cataluide adesso fanno parte appunto del del regno di castiglia però il regno di castiglia che al momento è un attimino così un attimino così perché qui possiamo vedere il conte abdal malik che ovviamente odia il nostro signore stesso discorso vale per muhammad ibn suleman tu ledala no questa fa parte del di anso di navarra ok vedremo un po cosa vorrà fare il nostro re con non ti conviene muñez non ti conviene vediamo un po cosa vorrà fare il nostro re con insomma questi nuovi territori appena conquistati che poi alla fine lucato di aragon cioè anziché prendere tutti i territori ha preso praticamente due due con te e basta eh pensavo di più speravo di più la via della lama l'incessante sbattere del metallo sul metallo l'attrito dell'armatura il prurito dato dal sudore è una danza tanto familiare quanto estenuante brandire la mia arma attaccare schivare difendere ripetere forse mi farebbe bene esercitarmi con qualcos'altro no perché no esperto rispettato oppure poniamo fino alla monotonia dammi un'altra arma no 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 noi rimaniamo fedeli a tizona tizona ragazzi che ancora una volta spada leggendaria appunto del seed i miei omaggi più sensibile vassallo speravo che non si arrivasse a questo ma non ho altra scelta devo alcare oh che palle mi ha tolto nuovamente il titolo del maresciallo e a chi l'hai dato? al duca Ahmad no vabbè ma che scherzi ma dai intanto qui oh finalmente controllo al 100% ok mettiamo quindi il nostro maresciallo ad addestrare i comandanti no vabbè comunque questo è che pa certo vabbè l'altronde il gioco ovviamente tiene conto che Ahmad è forte del suo titolo ducale quindi per renderlo un po' meno scontroso nei confronti di Ressancio ovviamente doveva dargli qualcosa io però insomma vedendo le sue abilità diplomatica l'avrei reso il il cancelliere ah infatti sì adesso è il cancelliere e il duca Nugno è il maresciallo cioè il duca Nugno è due competenza militare due fa schifo mannaggia mannaggia intanto noto che ci sono un po' di fazioni fazioni per l'indipendenza chi? il duca Nugno Mendes di Portugale e ovviamente il duca Ahmad sulle mani di Hudid e poi c'è una fazione della libertà potere militare vuole un'autorità della corona più bassa ok chi? il conte Gutierrez di Mugnes va bene va bene intanto Jimena donna Jimena ci fa sapere che è ancora una volta incinta molto bene veniamo un attimino al piccolo Diego come cresce cresce uguale sempre uguale un anno ancora piccolino nessuna skills diciamo troppo troppo elevata ecco a parte quel 1 in amministrazione niente di che insomma io a questo punto andrei nuovamente a caccia per ripeto cercare di andare a guadagnare il tratto cacciatore almeno novizio cacciatore insomma quello ovviamente ci andrebbe ad aiutare per quanto riguarda la maestria intanto aiuto Ghislaine fai qualcosa aspetta un attimino ah no 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 ok il cinghiale furioso proprio mentre il mio Ghislaine ed io superiamo la vetta di una collina lo sentiamo lo spezzarsi di ramoscelli il fruscio dei rami gli uccelli che strillano spaventati sono tutti i araldi che annunciano il suo arrivo un enorme cinghiale diretto proprio verso di noi no il suo viaggio finisce qui con me abbiamo un 80% di cera la bestia uno 0% di morire e un 20% ferito abbiamo detto 0% di morire giusto? quindi insomma non dovrebbero esserci problemi il suo viaggio finisce qui con me uccido la bestia ottimo ho ottenuto trofeo di caccia per 10 anni questo ci sarà 0.5 al mese di prestigio molto molto bene intanto ritorno dalla natura selvaggia torniamo a casa rinvigoriti niente tratto però ancora purtroppo riproveremo poi riproveremo assolutamente poi tanto penso sia giunto il momento di provare fare qualche alleanza qui sarebbe il conte Pedro Ansures di Valadolid con 1077 soldati non male affatto non male affatto sai cosa erede primario Gonzalo Pedres Venigomes 8 anni è attualmente il erede alla contea di Valadolid stesso discorso però la contea di Olmedo per il Pedro Pedres Venigomes no io andrei per il figlio maggiore Pedres organizza matrimonio e gli potremmo dare Cristina la nostra figlia maggiore si Cristina ok accetterà molto bene molto bene in via proposta ok quindi 1077 soldati che potrebbero aiutarci magari in future guerre che potremmo pensare di fare da noi dato che al momento Sancio non è proprio guerrafondaio anzi è molto attendista anzi fatemi guardare un attimo i tratti strano però perché è ambizioso il racconto è coraggioso strano perché da come si sta comportando è molto attendista poi qui abbiamo la contea di Astorga con 852 soldati oppure Corugna 224 Portugale 1476 ma non accetterà mai figurati vediamo un attimino non so tipo Maria Rodriguez nostra figlia con non so Mendo Nunes no esatto non accetta qualcuno di rango inferiore me ne 40 no no proverai allora a sto punto con il conte Sanchu Sanchu di Ordonez che al momento è se non erro il maresciallo cosa che è tuttora esatto il maresciallo tuttora io non mi spiego comunque vabbè organizziamo sto matrimonio allora a sto punto farei con Maria Maria Rodriguez de Vivar e vediamo un po' vediamo un po' sì Vela Sanchez de Leon che però non è non è l'erede allora al momento l'erede è Ovecu Sanchez che però è già fidanzato con Jimena c'è da dire c'è da dire che comunque sia Vela andrebbe a guadagnare la Contea di Monterrey quindi insomma ci sarà in futuro un'altra alleanza quindi va bene così l'importante però adesso è che noi andiamo a formare queste alleanze eccellente ok una rivendicazione su Biscaglia il Conte Gutierrez Mugnez di Amagna stai attento a quello che vuoi fare stai attento io te lo dico perché fermi tutti chi è morto Alfonso per causa naturale zero figli oh mamma ragazzi il Re Sancio è diventato l'unico Re di Galicia Leon e Castiglia sinceramente non me l'aspettavo se succedesse tutto in questa maniera io anzi mi aspettavo una guerra un po' come successe nella realtà invece no zero guerre un solo assassino che ripeto García Fernández ragazzi non me lo toglie di testa nessuno dietro l'assassinio c'è il nostro Sancio sono sicuro al 100% allora adesso il nostro Re Sancio però ha una rivendicazione sul Regno di Navarra c'è da dire però che è alleato con il Regno di Navarra quindi non ci sarà mai questa guerra non credo proprio adesso 9 titoli su 6 quindi Sancio dovrà decidere a che consegnare Leon Menavente Avila e Behar che sia insomma oh tra l'altro ricordiamoci ragazzi Sancio è il nostro amico eh che voglia fare l'amico e darci qualcosa anche a noi e renderci un po' più forti no proprio no proprio no eh vabbè quindi Contea di Benevente va al Conte Vela Oveses mentre la Contea di Leon al Conte Bermudu di Oveses e la Baronia di Behar invece al Conte Rodrigo Oveses a tutti Oveses vabbè insomma eh Sancio ancora una volta ci ha lasciati in un angolino dispiace dirlo ma purtroppo il nostro Sancio non è proprio come nella realtà il piccolo Diego finalmente ha raggiunto i tre anni di età e ovviamente per fortuna anche il tratto infantile rumoroso quindi questo gli darà competenza militare più uno quindi un bonus sull'educazione militare ovviamente non avrà mentore migliore che proprio noi stessi insomma quando hai il SID che ti educa alla alla guerra non puoi sbagliare non puoi sbagliare io ragazzi sto iniziando a pensare che forse forse sarebbe il caso di iniziare che succede con la presente mi invito ad un banchetto alla mia corte in Burgos assolutamente certo sarò presente dicevo sto pensando di insomma iniziare madonna ragazzi sta festa è stato un disastro di iniziare un claim su insomma su alcune terre perché se no qui noi siamo bloccati a una una singola contea e purtroppo io sicuramente mi aspettavo un po' più di un po' di aiuto da parte di re sancio dato che siamo amici insomma migliori amici anzi pensavo insomma sarebbe andata ad un po' diversamente ovvero che magari mi avrebbe consegnato qualche territorio che però purtroppo così non è stato quindi proprio per questo sto pensando effettivamente di iniziare qualche guerra proprio per questo andrei a sbloccare Bellum Giustum questo ci darà un meno 50% di di spesa appunto nel caso in cui dovessimo entrare in guerra per un claim intanto adesso abbiamo un esercito potremmo avere un esercito di 517 soldati solo leve però ancora non abbiamo uomini d'arme più che altro perché verrebbe difficile mantenerlo ecco qui io stavo pensando di entrare in guerra con l'emiro Yajian per appunto il ducato di Valencia dato che effettivamente durante il periodo di esilio Rodrigo riuscì ad conquistare Valencia quindi anche per dare un attimino una piega di realismo però ragazzi qui parliamo di 3978 soldati ma dove vogliamo andare non c'è speranza alcuna non c'è speranza alcuna l'unica cosa che potremmo fare è insomma entrare in guerra con il conto Rodrigo di Mugnes e Gutierrez e poi perché no andare a creare il ducato di Cantambria sai cosa se no qui non ci muoviamo più 23 mesi inizieremo a fare un claim su la baronina di Santillana tanto educazione al termine il mio protetto Alvar è ormai maggiorenne è tempo che se la cavi senza di me per molto tempo ho sperato che una buona tutela sarebbe stata sufficiente a insegnare ad Alvar la complessità della guerra ero in errore ha sviluppato solo una comprensione basilare della materia ma almeno ha imparato l'essenziale della gestione di un esercito posso solo sperare che il resto arrivi con l'esperienza quindi ottiene il tratto soldato robusto ok e ottiene il tratto attaccante aggressivo beh insomma dai non è andata così male insomma 11 è proprio scarso 11 mamma mia ragazzi è proprio scarso 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 speriamo che ovviamente con il nostro piccolo Diego la situazione vada ad essere completamente diversa tanto qui andiamo a migliorare ancora bucefalo che adesso diventa maestria più 1 ci darà maestria più 1 prestigio 0.2 al mese in più e dimensione della leva più 10% va bene ci sta e mentre cercavamo appunto di creare il nostro claim su l'asturias de santillana il nostro re re sancio ha dichiarato una guerra santa per l'emirato di toledo guerra iniziata 12 giorni fa sancio che gode di 7017 soldati contro invece l'emiro jahim ismail 4062 però attenzione ragazzi è una guerra santa quindi c'è la possibilità che altri mualladisti insomma potrebbero rispondere alla chiamata io non vedo però Rodrigo con la sua armatura quindi non penso di essere tra i soldati nell'esercito di sancio semplicemente vabbè noi andiamo un attimino a vedere che cosa succederà intanto una spagna unita fermi tutti ragazzi uno dopo l'altro i regni della spagna sono caduti sotto il controllo di castiglia il mio amico re sancio ha dichiarato se stesso il padre della spagna il suo nome vivrà di certo per secoli ma lui verrà ricordato come un eroe o un tiranno solo dio lo sa capisco quindi fermi tutti regno di castiglia che adesso è praticamente una singola corona ragazzi wow eh sì eh sì 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 adesso non esistono più gli altri titoli reali ma possiamo vedere qui c'è solo il titolo di castiglia bravo sancio bravo sancio che cambia totalmente la storia è proprio effettivamente una storia alternativa ragazzi ha cambiato completamente la storia intanto vediamo la caduta di molina e l'esercito nemico che ha solo razziato segovia a quanto pare e l'esercito di castiglia ragazzi sta sì sta facendo praticamente quello che vuole sta facendo quello che vuole a quanto pare oh finalmente procedi a quanto pare l'emiro di intanto andiamo qui anche ad a Maya l'emiro di Toledo non sembra in grado di rispondere non sembra in grado di competere contro il fortissimo esercito castigliano e qui possiamo vedere un altro esercito addirittura di 4750 soldati ovvero l'esercito di Cordoba però Cordoba che se non era esatto di Vali Emir Abd al-Malik quindi un altro no questa è Asharita sempre andalusiano come l'emiro Yaib Ismail madonna sti nomi però ragazzi mamma mia che casino io sai cosa a sto punto farei se le tattiche dei dei parti le tattiche dei parti perché ovviamente prima di entrare in guerra con questi due conti vorrei provare però ad avere dei Cavalieros che sono praticamente un reggimento armato unico dovuto alla regione iberica diviniamoli i Cavalieros 22 di attacco di danno 21 resistenza 29 in seguimento 53 protezione quindi insomma non male intanto vediamo dice una battuta di caccia a sto punto io direi di aspetta che succede mi immagini Conte Rodrigo mi farebbe piacere se tua figlia Cristina potesse far visita alla mia corte a Corugna per incontrare i suoi coltani sto imitando tutta la gente che conta il che sfortunatamente include anche lei tanto il tempo è scaduto ma tu chi sei questo è il futuro re questo è il futuro re no assolutamente certo verrà di sicuro verrà di sicuro mia figlia verrà di sicuro tutti i miei figli verranno ovviamente certo devono fare insomma amicizia con il futuro re futuro re che intanto però io ho notato che il re Sancio padre della Spagna di Castiglia è ferito e purtroppo ferite peggiorate quindi insomma il suo medico non ha fatto un ottimo lavoro io ragazzi comunque su questo vi devo salutare anzi no sai cosa no ci salutiamo non appena la guerra finisce non appena la guerra santa finirà per Toledo e allora lì ci saluteremo intanto 81% una questione di lealtà no 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 Chimena sono sicuro che dai non ci posso credere mi sta facendo le corna dai no 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 sono il padre sicuramente guerra vinta guerra vinta come al solito non ci becchiamo neanche un titolo anzi Toledo vad Sancho Urrañez figlio appunto dire Sancho mentre Malagon se la tiene lui Ucles invece viene consegnata o meglio viene lasciata al conte Bermudu Velest di Ucles insomma pensavo un qualcosina di meglio noi comunque nel prossimo episodio anzi finiamo questo claim procedi ok nel prossimo episodio ragazzi noi entreremo in guerra e cercheremo ovviamente di creare il lukato di Cantabria ragazzi io come al solito vi ringrazio immensamente tanto per essere stati anche quest'oggi qui con me come sempre spero e mi auguro il video di quest'oggi sia stato il vostro gradimento e come sempre un fortissimo abbraccio a tutti voi ciao ragazzi ciao ciao ciao